Un allarme, secondo me, ingiustificato nel paese rispetto alle varianti. Prima la variante inglese, poi la suddisfricana, il prassiliano, adesso la variante indiana. Allo stato degli atti, soprattutto qui a Latina, nel Lazio, tutti i bamboni che sono stati analizzati dallo Spallanzani non hanno dato nessuna variante indiana. Dopodiché la stessa variante allo stato degli atti scientifici, compresa questa indiana, non è né maggiormente patogenica né assolutamente più contagiosa. Ma quello che è più importante dire è che tutti i vaccini oggi a nostra disposizione sembrano efficaci nella copertura delle varianti, compresa quella indiana.